Un 42enne di Pignataro Interamna e un 25enne residente a Ponte Corvo, entrambi con precedenti per furto, rapine e appropriazione in debita, durante un controllo dei carabinieri sono stati fermati a Col Felice, mentre si aggiravano nelle vicinanze di abitazioni isolate. All'interno della loro automobile c'erano 15 grimaldelli utilizzati per lo scasso. Per i due è scattato il foglio obbligatorio con divieto di ritorno ad Arce.